Ultima gara dell'anno per l'Agropoli di Mister Rigoli, prima della sosta natalizia. Avversario di turno il Montalto, che si è rinforzato in sede di Mercato Invernale. Tre punti comunque imprescindibili per l'Agropoli per non perdere ulteriore terreno dalle prime della classe. Già presentato all'Eruzzo, che però non sarà della partita, ieri la squadra di Patron Cerruti ha ufficializzato anche Daniele Arena, centrocampista classe 93, svincolato dall'Agracas. Sentiamolo in questa intervista. Daniel Arena, nuovo acquisto dell'Agropoli, già domani sei arruolabile, sei stato convocato qui in ritiro all'Hotel Cerere. Sì, il Mister mi ha dato l'opportunità già di esserci domani, speriamo di fare bene e di continuare a fare bene. Pronto già a dare il tuo contributo? Certo. Senti, è stato difficile lasciare la Sicilia e soprattutto una squadra vincente come l'Agracas, una squadra che adesso è prima in classifica. Sì, è stato difficile anche perché ad Agricento mi era affezionato, però le circostanze mi hanno portato ad andare qua ad Agropoli e spero di dare il mio contributo ad Agropoli come facevo con l'Agracas. Perché proprio Agropoli? Cosa ti ha convinto? Il Mister, il progetto, il Presidente? No, mi ha convinto, innanzitutto il Mister che mi ha cercato, poi il progetto che è una squadra importante, cercheremo di strappare il campionato all'Agracas. Senti, tu sei il fratello di Nicola, cosa ti dico quando dici il fratello del più famoso Nicola? È una cosa che soffri o vai avanti per la tua strada? No, non è una cosa che soffri, anzi ne vado fiero perché mio fratello è un gran giocatore di questa categoria, quindi ne vado fiero, non ne soffro di questa cosa. Domani si verrà impiegato per uno spezzone di partita, magari potresti anche già segnare, anche se mi hai detto che il gol non è propriamente nelle tue corte, sei più portato a fare gli assi. Che tipo di giocatore sei, che caratteristiche hai? Caratteristiche da esterno soprattutto, cerco di giocare per la squadra, di fare quanto più bene possibile e poi la prestazione ci porterà a fare il risultato. Speriamo domani già di iniziare con una vittoria e perché no, se ho qualche spezzone di partita faccio anche il gol.